Simone possiamo dire ben tornato a casa tua perché questa è un po' anche casa tua sì certo sono molto molto contento di essere tornato qui a Perugia di aver cominciato la preparazione per questa nuova stagione quindi come dicevi sì è casa mia e sono veramente felice di aver ritrovato tutti quanti ecco questa è la tua quarta stagione con la maglia della Sir Susavim Perugia sono stati tre anni insomma pieni di successi e tanti ne dovranno ancora speriamo arrivare sì sicuramente sono già passati tre anni e iniziamo col quarto è incredibile come il tempo passa veloce quindi sono molto contento di aver concluso insomma il mio contratto scorso e di averne aperto un altro di aver aperto un altro ciclo sono molto contento perché insomma giocare qui a Perugia è sempre un piacere un orgoglio quindi sono molto carico i successi ce ne sono stati parecchi questi anni sono contento però quelli ormai sono alle spalle quindi dobbiamo cercare di pensare a quello che dobbiamo fare per cercare di tornare a essere cacciatori di finali tra l'altro lo abbiamo chiesto a tutti il primo impatto arrivando qui al palazzetto il Taraflex tricolore vi ricorda la stagione che avete vissuto lo scorso anno insomma è merito vostro il Taraflex che abbiamo di là però vi carica anche di responsabilità e di pressione in qualche modo ma la pressione la lasciamo agli altri le responsabilità ce le prendiamo volentieri perché sicuramente è una responsabilità ma non perché c'è il tricolore ma perché vogliamo far bene e ci teniamo a Perugia, alla squadra e a tutti quanti i tifosi, alla società quindi non è perché c'è il tricolore di là il tricolore ce lo siamo guadagnati l'anno scorso sarà un piacere giocareci sopra quest'anno però quello poi non ci dà nessun vantaggio per vincere le partite quest'anno quindi sarà sicuramente un qualcosa di diverso per noi però dobbiamo pensare a allenarci e a capire cosa fare e come fare per poter fare una stagione bella anche quest'anno la società del presidente Gino Sirci e lo staff insomma ti hanno messo a disposizione un bel battaglione di attaccanti sarà anche insomma divertente provare a variare, provare nuovi schemi sì, sicuramente qua e qui a Perugia è sempre molto bello perché ci sono sempre squadre molto competitive dove tutta la società cerca sempre di fare al meglio per avere a disposizione tanti atleti molto forti quindi questo è il caso di quest'anno, come degli anni scorsi quindi sono molto contento di avere tutti quanti a disposizione sarà compito mio e di Zoppe cercare di dare la palla migliore a tutti quanti e cercare di fargli girare tutti quanti al meglio visto che lo hai nominato, lo abbiamo intervistato nei giorni scorsi Francesco Zoppellari sarà il tuo tra virgolette vice lui è entusiasto e non vede l'ora di carpire anche con gli occhi tutti i tuoi movimenti e insegnamenti Sarai per lui una sorta di fratello maggiore? Beh, alla mia età più o meno, quindi io mi ricordo che ci giocavamo sempre contro nelle giovanili quando lui era a Padova e io ero a Trento e me lo ricordo bene quindi no, io cerco sempre di fare il mio, di migliorare anch'io perché ancora è un processo che sto cercando di portare avanti e cercare di migliorarmi quotidianamente quindi quello sicuramente cercherò insieme a lui di farlo dando lui quello che posso e prendendo io da lui quello che posso quindi sarà un dare avere il nostro quindi sono contento che sia qui e sono contento di poterle darmi insieme a lui Ultima domanda proprio grazie a quello che avete realizzato la scorsa stagione quest'anno torna la Champions Sì, è un'altra manifestazione che c'era mancata sicuramente l'anno scorso siamo stati felici di quello che abbiamo fatto però ci è mancato un po' e soprattutto ci è dispiaciuto vedere gli altri giocare e noi non poterlo fare quindi sono contento di aver raggiunto questo obiettivo perché è un obiettivo che avevamo da inizio stagione all'anno scorso di riportare Perugia in Champions League e ce l'abbiamo fatta anche perché adesso quei regolamenti che ci sono non è semplice farlo quindi non è scontato quindi sono contento di poterla rigiocare quest'anno di ritornarci e faremo tutto il nostro meglio per affrontare anche quel torneo lì in maniera positiva Cosa ne pensi del ritorno alla formula della Final Four? Cosa ne penso? Beh, tanto decidono sempre gli altri io sono tutto quello che viene lo prendo e lo vedo sicuramente la Final Four è un bellissimo evento perché si può creare quella magia che c'è in quegli eventi lì delle partite secche, delle partite belle quindi secondo me è una cosa bella sicuro grazie